Oggi vi voglio parlare di un film che non è da poco uscito nelle sale, non è stato distribuito da poco neanche nelle piattaforme di streaming perché è un film del 2018, quindi è un film che avrei potuto e dovuto vedere anche prima rispetto ad adesso ma è una pellicola che mi è stata consigliata da una iscritta al canale, da Serena, che ringrazio davvero e quindi oggi voglio recensirla, però prima di iniziare, come sempre vi ricordo i modi che avete per supportare il mio canale innanzitutto nella maniera più rapida e semplice, cioè iscrivendovi se non siete ancora iscritti e una volta iscritti attivate la campanella così rimarrete aggiornati su tutti i prossimi contenuti poi vi do l'invito a guardare qui sotto in descrizione perché troverete altri modi per supportare il mio canale innanzitutto potete anche lasciare un commento con la funzione super grazie che lo manterrà in evidenza con una piccola donazione al canale ed inoltre potete anche spulciare i vari link, potete trovare la mia wishlist Amazon se volete farmi un regalo un link Amazon da usare per fare qualunque vostro acquisto e poi potete trovare tutti i miei canali social nei quali potermi seguire, quindi su Instagram, su Telegram, su Twitter ed anche nella mia pagina Facebook DrCinema. Ma detto questo, sapete che cosa fare, vi ringrazio se lo farete passiamo adesso a quella che è la video recensione del film che voglio appunto recensire oggi di cui voglio parlarvi oggi, è un film tra l'altro, ve lo dico fin da subito, che potete trovare su Prime Video quindi se avete l'abbonamento alla piattaforma Amazon potete in questo momento chiaramente trovarlo ora non so se rimarrà per mesi e mesi, quindi se state guardando questa video recensione nel momento in cui la sto pubblicando lo trovate su Prime Video ma nelle prossime settimane o nei prossimi mesi non so chiaramente se verrà mantenuto non ho la sfera di cristallo chiaramente in tal senso è un film che mi è stato appunto consigliato da Serena che ringrazio di cuore anche per aver insistito più di una volta nel citarmi questo film ma in realtà comunque sapeva di giocare sul velluto perché? perché il protagonista di questa pellicola di cui sto per parlarvi è un attore per il quale io stravedo a dir poco e cioè Mads Mikkelsen un attore che nel corso degli anni è stato in grado davvero anche di entusiasmarmi con dei film che tra l'altro ho anche recensito qui nel canale per esempio Il Sospetto ma così come anche più recentemente un altro giro tra parentesi, film che io vi consiglio di guardare insieme a quello di cui sto per parlarvi oggi Mads Mikkelsen è un attore stratosferico è un attore che probabilmente meriterebbe di essere conosciuto anche dal grande pubblico probabilmente non ha ancora mai avuto il ruolo della vita o perlomeno il ruolo che gli permetta di arrivare a tutti perché? perché lui è un grandissimo, davvero un grandissimo attore un grandissimo artista e lo ha dimostrato e lo dimostra anche nel film che voglio recensirvi il film in questione è Arctic un film appunto che trovate su Prime Video e del quale chiaramente vi parlerò senza fare nessun tipo di spoiler perché? perché sì, è un film del 2018 quindi sono già passati diversi anni da quando è stato distribuito per la prima volta però magari tra di voi potrebbe esserci qualcuno come il sottoscritto che ancora non lo ha visto, ancora non lo ha recuperato magari non lo conoscete, non ne avete mai sentito parlare e quindi potreste essere incuriositi dalla mia video recensione quindi nessuno spoiler, tranquilli potete arrivare fino alla fine di questo video senza correre nessun rischio però come sempre facciamo un brevissimo cenno di trama per capire di che cosa stiamo parlando ed il film Arctic infatti si propone di raccontare la storia di un pilota di aerei interpretato proprio da Mads Mikkelsen che ci viene presentato fin da subito fin dai primi minuti del film in una situazione a dir poco drammatica perché? perché ci viene mostrato appunto in quello che è il circolo polare artico quindi al polo nord e lui è precipitato con quello che è il suo aereo tanto infatti l'aereo viene visto viene mostrato schiantato al suolo praticamente distrutto e ovviamente lui deve fare i conti con quella che è la situazione drammatica del momento e ovviamente con tutti quelli che sono i problemi relativi ad una condizione del genere deve in qualche modo trovare il cibo per potersi alimentare diciamo che deve trovare anche l'acqua anche se ovviamente l'acqua è un problema minore perché è circondato dai ghiacci quindi è facile capire come sia facilmente reperibile anche se in realtà il ghiaccio chiaramente non è la stessa cosa dell'acqua deve anche riuscire a scaldarlo e poi ovviamente deve fare i conti con le terribili condizioni meteorologiche del circolo polare artico la sua vita diciamo che viene ulteriormente stravolta nel momento in cui un elicottero passa proprio nelle vicinanze di quello che è il punto dell'incidente in cui si trova lui ed ovviamente lui non fa altro che provare ad attirare l'attenzione dei piloti per provare anche a far avvicinare l'elicottero ovviamente con l'obiettivo ultimo di essere tratto in salvo purtroppo però le condizioni meteorologiche avverse fanno precipitare anche l'elicottero purtroppo tanto che infatti poi lui si avvicina a quello che è il punto del disastro al punto dell'incidente il pilota viene trovato senza vita al suo fianco però la copilota viene trovata viva tanto che infatti il personaggio di Mads Mikkelsen la recupera la trae in salvo la porta con sé chiaramente per cercare anche di accudirla per cercare di salvarla e poi vedremo durante il film non vi voglio spoilerare nulla anche per tentare proprio di poterla salvare insieme a lui cercando qualcosa che possa farli andare via proprio dal polo nord e mi fermo qui mi fermo qui perché qualunque cosa io possa andare ad aggiungere rischerebbe di rappresentare un pericolo di spoiler per chi il film chiaramente non dovesse ancora averlo visto per chi ha visto il film sappiamo tutti come va a finire non dico altro quindi è un film che non conoscevo devo essere sincero perlomeno ne avevo sentito parlare però non avevo mai puntato in maniera diretta l'attenzione nei confronti di questa pellicola quindi ringrazio davvero Serena nuovamente è la terza volta ma devo in qualche modo contraccambiare anche l'insistenza benevola che lei ha avuto nel suggerirmi questo film nei commenti di vari video precedenti ed è un film che mi è piaciuto tantissimo quindi sono contento di averlo recuperato sono contento di avere dato ascolto a Serena perché ho trovato un piccolo grande gioiellino e non mi aspettavo niente di diverso tra l'altro proprio per la presenza di Mads Mikkelsen come attore principale fondamentalmente è l'unico protagonista di questo film perché sì poi entra in gioco il personaggio di questa donna tratta in salvo però il film viene come dire interamente si basa interamente su quella che è la prova attoriale di Mads Mikkelsen e se già ho avuto modo di elogiarlo nella fase iniziale di questo video non posso far altro che ribadire il concetto un concetto molto semplice cioè Mads Mikkelsen è un attore talmente bravo talmente preparato talmente convincente talmente anche in grado di recitare esclusivamente con il corpo non necessariamente parlando che non poteva essere che una garanzia di qualità per quanto riguarda questo film è un film che ovviamente ha tutta una serie di caratteristiche peculiari che si possono ritrovare anche in altre pellicole del genere non necessariamente ambientate al polo nord ma film che per esempio sono caratterizzati da un unico protagonista film che tutto sommato sono anche caratterizzati da una come dire da un'ambientazione tutto sommato identica per tutta la durata del film ora non è che il film si caratterizza proprio per il fatto di essere ambientato in un unico luogo perché poi in realtà il personaggio cerca di muoversi cerca di come dire di trovare la salvezza in un modo che non vi sto qui a raccontare si sposta ma è chiaro che siamo al polo nord siamo nel circolo polare artico non è che ci sia tutta questa grande variazione di ambientazione quindi neve dovunque condizioni meteorologiche che sono pressoché immutate se non attraverso dei momenti anche di come dire di rasseneramento del meteo ma tutto sommato quello che circonda il personaggio è sempre la stessa cosa quindi queste distese innevate a perdita d'occhio quando succede una cosa del genere quando mi trovo di fronte ad un film del genere di solito come dire la riflessione che faccio è relativa anche alla capacità che può avere il regista da un punto di vista registrico ma anche da un punto di vista della scrittura del film di saper rendere quanto più emozionante quanto più avvincente quanto meno noioso possibile un film di questo tipo perché perché il rischio che si corre in una pellicola del genere è chiaramente quello di scadere nella staticità complessiva della storia nella banalità tutto sommato anche della storia nella incapacità anche proprio di attirare l'attenzione dello spettatore e di mantenerla viva per tutta la durata della pellicola questo ripeto non succede nel film Arctic il come dire lo spettatore è in qualche modo come dire rimane intrappolato in quelle che sono le vicende di questo pilota di questo personaggio interpretato da Michelson dall'inizio letteralmente fino alla fine e se vi dico letteralmente è perché c'è un motivo è un film che funziona a meraviglia per tutta la sua durata tra l'altro una durata neanche particolarmente come dire marcata perché stiamo parlando di un film che dura all'incirca un'ora e mezza un'ora e trentacinque e io credo che per delle pellicole di questo tipo per delle storie di questo tipo la durata di un'ora e mezza credo sia davvero la durata perfetta perché perché non è né troppo breve perché si rischierebbe chiaramente di portare avanti qualcosa di raffazzonato qualcosa di non interessante ma allo stesso tempo non è neanche eccessivamente lunga perché un film che ha una tipologia di storia del genere se dovesse durare anche oltre l'ora e mezza l'ora e quaranta potrebbe rischiare di annoiare ecco tutto questo anche in questo caso non succede in Arctic Arctic ha una durata perfetta davvero come dire millimetrata mi verrebbe da dire ma comunque no cronometrata più che altro al millisecondo viene come dire portata avanti la storia di questo personaggio nella maniera più avvincente possibile grazie chiaramente ad una scrittura di base quindi ad una sceneggiatura perfetta è chiaro che non vi dovete aspettare chissà quale storia originale non vi dovete aspettare chissà quali guizzi particolari per quanto riguarda l'andamento della storia stessa ma è una storia funzionale chiaramente a quello che è il contesto ed è funzionale soprattutto per andare ad esaltare alla grande un protagonista che è davvero meraviglioso sublime Mads Mikkelsen non credo che abbia bisogno di presentazioni però non smetterò mai di elogiare questo attore perché ripeto non è che sia davvero conosciutissimo a livello mainstream mettiamola così al grande pubblico non è che il nome di Mads Mikkelsen secondo me riesca ad evocare chissà che cosa perché non ripeto non ha mai avuto ancora la grandissima possibilità cinematografica per potersi affermare come quello che è diciamo definitivamente cioè un grandissimo attore ma io non smetterò mai di elogiarlo non smetterò mai di esaltarlo qui ci regala una grande prova per quello che dicevo prima perché nonostante lui sia per quasi tutta la durata del film l'unica l'unica persona presente sul set sulla scena nonostante lui fondamentalmente non interagisca quasi con nessuno da un punto di vista anche dei dialoghi in realtà parla con gli occhi parla con il corpo è davvero quello che dovrebbe fare un grande attore anche con la sola presenza scenica riesce a riempire riesce a bucare lo schermo e non è cosa da tutti ripeto non è una cosa così scontata soprattutto ripeto in un film di questo tipo Mads Mikkelsen riempie la scena riesce a davvero a comunicare con lo spettatore riesce davvero a parlare semplicemente con uno sguardo ci sono dei momenti per esempio in cui lui è completamente coperto perché ovviamente deve fare i conti col freddo e si vedono soltanto gli occhi anche soltanto con gli occhi Mads Mikkelsen riesce davvero a far capire quella che è quella che è la situazione che sta vivendo in quel momento il suo personaggio quindi bravissimo non mi sorprende affatto non mi aspettavo niente di diverso da Mads Mikkelsen quindi una conferma di quella che è la sua straordinaria abilità recitativa quindi Mads Mikkelsen è un attore per il quale i suoi film dovrebbero essere visti sempre comunque perché è un attore che riesce sempre ad aggiungere qualcosa di positivo qualcosa di qualitativamente qualcosa diciamo da un punto di vista qualitativo importante anche nei film meno riusciti e questo ripeto è la dote che riesce ad avere soltanto un grandissimo artista un grandissimo attore e lui lo è senza se e senza ma poi il film in realtà funziona anche per quello che è il comparto tecnico chiaramente ripeto non è che le ambientazioni siano particolarmente variegate però sfido chiunque a come dire a realizzare un film ambientato al polo nord in maniera credibile in maniera avvincente tra l'altro credo che lo abbiano girato davvero nelle zone come dire artiche quindi magari non al polo nord ma in quelle che sono le zone che magari durante l'inverno sono completamente rivestite da neve non ho approfondito dovrei farlo eventualmente ci riaggiorniamo qui nei commenti quindi la gestione delle ambientazioni dei set delle location deve essere stata qualcosa di impegnativo tra l'altro per quella che è la troupe per quella che era la troupe del film per lo stesso Mads Mikkelsen ovviamente una più che buona fotografia chiaramente anche per poterci regalare questa atmosfera algida a dir poco anche come dire difficile un'atmosfera che deve comunicare l'estrema difficoltà nell'affrontare quelle che sono chiaramente le difficoltà del circolo polare artico per un uomo fondamentalmente da solo che è precipitato al suolo con il suo elicottero e poi anche voglio dire voglio spendere due parole anche per il comparto sonoro perché sembra una cosa influente ma non lo è in un'ambientazione del genere è ovvio che il sonoro come dire abbia un ruolo importante proprio per dare quella sensazione di lasciatemi passare il termine di immersività allo spettatore noi dobbiamo sentirci parte della storia noi dobbiamo essere lì con Mads Mikkelsen dobbiamo soffrire con lui dobbiamo tremare con lui dobbiamo davvero anche sentirci parte integrante di questa condizione a dir poco disagiata che lui vive dall'inizio alla fine quindi anche il sonoro ha una sua importanza è un film che funziona è un film che ripeto non è che abbia chissà quali grandissime particolarità da un punto di vista artistico da un punto di vista tecnico no però è un film che funziona è un film che ti fa rimanere lì col fiato sospeso in alcuni momenti tra l'altro diventa anche una sorta di thriller perché succedono delle cose che il personaggio deve affrontare e che non si sa come andranno a finire può essere definito un thriller è un film drammatico è un film che funziona dall'inizio letteralmente fino alla fine ripeto non vi svelo come il film va a finire perché sarebbe un delitto sarebbe davvero criminale da parte mia andarvi a rivelare il finale del film però quello che vi posso dire senza timore di essere smentito è che se decidete di dare un'opportunità ad arctic secondo me difficilmente rimarrete delusi non vi aspettate il capolavoro diciamo immenso non vi aspettate il film dell'anno non vi aspettate sicuramente un film eccelso ma è una pellicola che riesce comunque a svolgere in maniera più che decente anzi direi in maniera ottima il suo lavoro quello che deve fare cioè tenere incollati con lo spettatore con gli occhi allo schermo per poter capire come le cose saranno in grado di svilupparsi quindi film che sono contento di aver recuperato seppur con un certo ritardo seppur con qualche anno di ritardo rispetto alla sua distribuzione però è ovvio che di film da vedere ce ne sono davvero a migliaia quindi questo è anche superfluo doverlo specificare la lista di film da vedere è sempre chilometrica però ogni tanto si trovano questi piccoli gioiellini queste piccole soddisfazioni grazie anche a dei consigli tra l'altro che arrivano da persone delle quali ormai comincio a fidarmi ad occhi chiusi quindi se avete altri consigli e lo dico anche a Serena ovviamente qui sotto nei commenti nei video non potete far altro che sbizzarrirvi perché come potete vedere cercando di anche conciliare magari le visioni già programmate con questi consigli che arrivano un po' come dire un po' sparsi anche nei commenti dei miei video io cerco di seguirli e in questi casi tra l'altro non posso far altro che ringraziarvi quindi Arctic film che trovate in questo momento su Prime Video recuperatelo ritagliatevi un'ora e mezza del vostro tempo per dargli un'opportunità perché secondo me non ve ne pentirete assolutamente quindi questo era quello che pensavo e che vi volevo dire riguardo al film Arctic chiaramente fatemi sapere voi che cosa ne pensate se il film lo avete già visto oppure se lo vedrete nei prossimi giorni ritornate qui nei commenti e lasciatemi la vostra opinione perché sono curioso di leggerla come sempre e vi risponderò con molto piacere io vi ringrazio come sempre anche per l'attenzione che decidete ogni volta di regalarmi guardando i miei video vi rinnovo quelli che sono gli inviti a supportare il canale innanzitutto iscrivendovi se non siete già iscritti attivate la campanella per rimanere aggiornati su tutti i prossimi contenuti ed inoltre qui in descrizione trovate diversi link per potermi ulteriormente supportare la wishlist amazon se volete farmi un regalo avete anche il link amazon da usare per fare qualunque vostro acquisto e poi tutti i miei canali social da telegram twitter instagram e la pagina facebook dr cinema alla quale iscrivervi noi ci becchiamo ad un prossimo video ad una prossima video recensione anche in una delle tante puntate delle varie rubriche che sto portando avanti nel canale come sempre vi auguro anche una buona continuazione di giornata e ci vediamo presto ciao a tutti